Ho appena scoperto quest'artista, Melanie Martinez, un'artista che è veramente fortissima, giovanissima, per carità è arrivata da The Voice di quelle zone lì, ha fatto diciamo un singolo che è diventato virale su TikTok e da lì diciamo che esplosa. Però questa ragazzi viene da Porto Rico, la Repubblica Domenicana, in quei luoghi lì l'arte ha un'altra concezione anche a livello mainstream, anche a livello pop, io sto vedendo quello che ha fatto, una grande, una che ha fatto pure un film, dici che faccio come promozione del disco? Faccio un film e l'ha girato lei, chiaro con tutta la situazione attorno di un lancio discografico internazionale comunque, perché però questa è veramente fortissima, a 16 anni si è tinta come Crudelia De Mondo dopo aver visto La Carica dei 101 e se ci sono basi solide nello stimolare un artista, io mille volte ho detto su questo podcast l'importanza che ha la sensibilità artistica, quella che si crea con musiche, con cartoni e con film che fin dall'infanzia ci creano quando siamo spugne pure, E questa è la roba, qua c'è scritto è bisessuale, vabbè se fossi una donna probabilmente lo sarei anch'io, però non ci interessa questo, ha fatto i profumi, diverse tournee, un film, tre dischi ed è giovanissima, io devo dire che mi ha conquistato subito perché poi ha uno stile veramente particolare ma che porta con credibilità, E' difficile comunque in questa società di oggi molto fluida riuscire ad avere un outfit magari stravagante, particolare che ci rappresenti e non essere banali e non essere la copia di... Si può imitare, lei si ispira a delle cose ma fa suo, e poi la musica è di qualità, la musica è veramente di una qualità incredibile sotto diversi punti di vista, E non a caso abbiamo 12 milioni di ascoltatori mensili e adesso sta uscendo questo disco nuovo, e che dire, io la vorrei proxare quest'artista, non che ne abbia bisogno, però... Strava!